buongiorno bimbe buon sabato a tutte allora io sono qua nella mia camera da letto sto cambiando le lenzuola ma non sarà un sabato di pulizie come al solito perché vi spiego ieri ho fatto il vaccino abbiamo fatto il vaccino sia io che mio marito siamo stati in fiera alla fiera del militerraneo appunto dove c'è dove ci sono i vari punti per fare i vaccini c'è la strazeneca il fighter io e mio marito abbiamo fatto il fighter perché appunto hanno aspettava questo quindi l'abbiamo fatto ieri vi devo dire che ieri siamo stati un po ammaccati e mio marito nel senso un po di dolore al braccio quindi un pochino di dolore al braccio poi un po di tipo brividi vedete sto casino perché sto cambiando la lenzuola un po di brividi ho avuto anche un leggero mal di testa e senso di spossatezza però devo dire che vi faccio fare il giro come al solito vi devo dire che in confronto al covi di e in confronto ad altre ad altri effetti collaterali a reazioni violente del vaccino devo dire che è stato proprio niente qui vedete bianca e quindi vi devo dire la verità in effetti non è stato niente ora stamattina mi sento un pochino meglio però non so perché non mi sento molto in vena di fare pulizie così la giornata stamattina per giunta è iniziata bruttina ora invece sta spuntando il sole a palermo c'è stata una settimana di giornate strane nel senso che al mattino era brutto e poi invece spuntava il sole tant'è che mio figlio è stato in ferie e se ne è andato a mare ogni giorno è nero che sembra un tunisino però voleva farsi un paio di giorni fuori voleva andare in qualche isola però le previsioni sono brutte nel trapanese c'è pioggia quindi prendere i traghetti prendere gli aliscafi significa che c'è il mare mosso e poi tra l'altro quando poi si arriva nelle isole dava pioggia e quindi poveretta ha fatto una settimana però devo dire di mare vi ripeto è nero come un tunisino però questi due giorni fuori non li può fare questa settimana se mi avete seguito su instagram ho fatto la doppietta lidl guardate che meraviglia queste rose rosa le ho prese mercoledì guardate che sono belle e invece ieri venerdì ho preso queste color arancio guardate che sono belle anche queste queste le ho prese a 2 euro e 49 sono 10 steli a 2 euro e 49 quindi devo dire che sono delle belle rose sono rose grandi invece alcune volte capitano le roselline quelle piccole piccole che poi alla fine manco si aprono rimangono così piccole allora questa è l'altra apertura nel salone vedete le mie piante ragazze vi faccio vedere questo ortensia questo ortensia è dello non dello scorso anno forse di due anni fa ma guardate che meraviglia che viene fuori considerate che questa un paio di mesi fa era completamente rasa c'erano solo dei rametti così praticamente cioè era così era così poi comincia a riempirsi di foglie e poi comincia a fare questi boccioli e guardate che cosa viene fuori di fiore meraviglioso e quindi vedete che meraviglia queste sono le surfinie questa è un'altra ortensia sempre degli anni passati che qua sta facendo un piccolo fiore e queste sono le ortenzie quelle meravigliose che ho preso a inizio stagione al brico ok allora ora cominciamo però vi ripeto non sono molto in vena c'è un telefono che squilla un attimo un attimo filippo è tua sorella franca ma dove sei scusate scusate vedete tutto in diretta squillava il telefono di mio marito va bene comunque ragazze vi lascio ora mi faccio quindi il letto però niente pulizie granché niente riprendiamo questo vloggettino del sabato allora ragazze devo dire che ho ritrovato durante la mattinata un po di vitalità e anche un po di voglia di fare qui c'è la mia maglia amore amore mio c'è la mia maia noi faccio vedere che ho già steso una lavatrice le sto facendo un'altra e poi devo fare vi faccio vedere devo fare questo copriletto questo celeste che ho messo la settimana scorsa sul mio letto oggi l'ho cambiato vi faccio vedere quale ho messo è un copriletto sempre molto primaverile estivo carino vi faccio vedere quale ecco qua guardate che carino guardate che bello con il bordo così vedete che bello lo sapete che io ogni sabato voglio un po cambiare il look della mia camera da letto quindi oggi ho messo questo i cuscini quelli la e quindi il copriletto appunto quello di che a celeste che era messo lo sto mettendo a lavare poi che cosa vi volevo fare vedere vi faccio vedere che è spuntato un po di sole mentre stamattina non ce n'era a e poi volevo fare vedere la meraviglia di questo spatifilium che ho guardate ragazze che fiori bianchi belli quindi ha fatto questi due e ora qui ce ne altri due pronti guardate che bello questo spatifilium ogni anno in questo periodo proprio impazzisce veramente e allora faccio vedere fuori guardate che bel sole che c'è anzi ora mi apro l'ombrellone ho dato l'acqua alle piante a tutte le piante e quindi forse anche il sole forse anche il sole mi dà un pochino di così di voglia ragazze naturalmente come dire in ogni famiglia in ogni nucleo familiare ci sono i momenti di gioia ci sono ci sono dei pensieri in questo periodo così ho qualche pensierino purtroppo e niente quindi speriamo di togliermi al più presto questo piccolo pensiero ma ci sono le mie rose arancio c'è sempre come dire qualche cosa comunque speriamo che non sia niente per cui avere pensieri tristi e niente vi dicevo appunto che ho ritrovato un po di vitalità che stamattina ancora mi sentivo un pochino ammaccata per ieri per il vaccino nel frattempo mi ha telefonato una mia amica mi ha detto se domani ci vediamo se ci andiamo a prendere un po di sole già questa è una cosa che mi dà un po di carica perché pensare di passare una giornata con le mie amiche che da tanto che non vedo di prendere un po di sole di mangiare anche un gelato fuori in questo periodo è una botta di vita come si dice e quindi ho ritrovato un po di voglia però sempre non di fare chissà che cosa niente ora mi faccio bagni ora mi faccio i bagni e poi al limite faccio una passata di straccio qui in corridoio anche se come vedete è lucidissimo però io sono abituata che almeno due volte alla settimana ci devo passare lo straccio specialmente il sabato anche se ora si sporca di meno la casa perché ve l'ho detto che i miei figli finalmente hanno le loro case le loro belle case arredate e quindi abitano per conto loro quindi naturalmente per forza di cose così i lavori in casa mi sono diminuiti la roba da lavare così la sporcizia in genere le belle cucina da fare insomma tutto tutto diciamo un po dimezzato ok ragazzi allora adesso vi faccio i bagni poi lavo appunto vi ripeto questo copriletto celeste anche se l'ho messo una settimana però ormai l'ho tolto e lo lavo questo è di che va bene ragazze più tardi ragazze guardate che bella sorpresa che mi ha fatto mio marito mi ha portato una cassetta di fragoloni perché sa che io le adoro sapete che cosa ho combinato l'altra volta ho fatto i fragoloni ho messo un po di succo d'arancia ho messo lo zucchero mescolato tutto per fortuna poi le ho assaggiate sapete che cosa ho combinato anziché mettere lo zucchero ho messo il sale lo immaginate e quindi che ho fatto che prontamente le ho sciacquate le ho sciacquate abbondantemente poi li ho ricondite con lo zucchero ma ne ho potuto mangiare un po e le altre le ho buttate perché essendo il fragolone così spugnoso il sale non è rimasto in superficie ma è entrato proprio dentro e quindi niente le ho buttate ora me le ha riportate ragazzi ho fatto tre lavatrici adesso devo stendere solamente il piumone quello celeste ho aperto l'ombrellino anche qui si sta benissimo c'è un sole bellissimo poi queste i fragoloni mi ricordano però per questo aneddoto ci dobbiamo guardare allora io ho appena finito di fare le pulizie e mi sono fatta in questo momento la doccia e mi sono asciugate i capelli adesso ci do una piastrata allora un altro motivo per cui io amo moltissimo i fragoloni e perché piacevano anche a mia madre e mia madre qualche annetto prima di morire siccome già era in una bella età avanzata che so 85 86 mi disse quando io muoio tu non devi piangere come se fosse facile ma devi ti devi ricordare solamente i momenti belli che abbiamo passato insieme è un momento bello che io ricordo che passavo con mia madre erano le serate estive in cui ci mettevamo nel balcone guardavamo appunto persone undici di sera a mezzanotte le persone che uscivano i ragazzi e ci mettevamo fuori in balcone con un bel bicchiere di fragoloni e quindi ci gustavamo questi fragoloni e ci prendevamo il fresco della sera il fresco della sera il panorama e tutto quanto quindi questi fragoloni per me sono legati molto molto a mia madre e quindi mi piacciono però mi ricordano infatti se io dovessi descrivere un momento bello con mia madre uno dei tanti è questo quando ci mettevamo in balcone fuori con questi fragoloni a piarci un po di fresco nel frattempo ci raccontavamo le nostre cose ed era un momento bellissimo ok ragazze quindi vi stavo dicendo ho finito le pulizie non ho fatto tantissimo e mi sono aperta l'ombrellone anche qua il sole se n'è andato si sta benissimo anzi direi che c'è un po di freschetto e queste sono questo è un sacchetto di cose che devo buttare questa è l'acqua che adesso tolgo da qui ho fatto il corridoio passato lo straccio in corridoio adesso prendo il tappeto che fuori e che ho sbattuto e acquisto facendo prendere un po d'aria e lo metto a posto quindi io e qua mi vedete di nuovo mi sono appena fatta la doccia adesso appunto mi piastro questi capelli nel frattempo mi sono spolverata anche la stanza da letto ho spolverato la stanza da letto la signorina maia che si è coricata mi sono spolverata dalla camera da letto e niente ragazze oggi è un sabato così anche ora ecco il tappeto qua allora vi devo dire che anche ora ho degli attimi in cui ho qualche brivido in cui non mi sento al 100 per cento delle mie facoltà fisiche credo che sia ancora appunto una conseguenza diciamo così del del vaccino ma voglio dire meglio questo che altro e quindi adesso mangio mio marito ha portato oltre ai fragoloni ha portato della buonissima ricotta quindi penso che mi farò un po di pasta integrale con la ricotta e poi mi faccio questi fragoloni e mi faccio una bella scorpacciata di questi fragoloni ragazzi allora io vi saluto vi do un bacio speriamo di risentirci per me con un umore un pochino più alto perché per ora ho un pochino di umore giù poi eventualmente vi racconterò perché in un altro momento allora ragazze vi saluto un bacio godetevi queste giornate se avete il sole andate bene a mare il sole fa bene pure all'umore e mi raccomando di mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto e di iscriverci ciao bimbe ciao